Ho fatto un viaggio unico in un posto sperduto, dove il tempo scorre lento, fuori dalla civiltà e dal tran tran quotidiano. Sono rimasto solo per tre notti e quattro giorni. Ho potuto riflettere molto con me stesso, soprattutto fare ciò che amo, pescare indisturbato in un posto magnifico. Qui nulla è dato per scontato, ogni pesce, ogni singola partenza è stato un vero combattimento, dove neanche il tempo è stato dalla mia parte, con vento forte e fiogge temporali, ma comunque felicissimo di essere stato in questo posto. Grazie a tutti.